E lo scopere Stylentation è l'ingresso del Disney Party XTX, questa è la pole di folla che ancora deve entrare. E' il delirio più totale assoluto, hanno diviso con tre ingressi, stampa, liste, accreditati, assolutamente il delirio. Invece la gente è comunque già entrata. Mano la folla. Ci rivediamo dopo dentro con gli altri video della festa.